Antonino Asta è il nuovo allenatore del Teramo. Da ieri c'è anche il crisma dell'ufficialità per una trattativa che nemmeno nei momenti più critici era mai stata davvero messa in discussione. L'allenatore era il profilo preferito e scelto per rilanciare una squadra che in una stagione ha bruciato quattro gestioni tecniche senza ottenere grandi risultati. Per il tecnico originario di Alcamo un accordo di un anno con eventuale opzione per la seconda annata nel caso in cui le cose dovessero andare per il verso giusto. La fumata bianca nel pomeriggio di ieri dopo l'incontro a Roma, tappa intermedia che ha portato la dirigenza del Teramo al contatto diretto con Asta e il suo procuratore prima di stirare l'accordo e ripartire ognuno verso casa. Con il tecnico che nello weekend preparerà la valigia per poi partire lunedì verso Teramo e la sua nuova panchina. Sarà una stagione di rilancio anche per lui dopo le ultime esperienze non proprio positive. Il diavolo dal canto suo dopo la presentazione vorrà capire dall'allenatore come muoversi sul mercato per i nuovi acquisti ma soprattutto di quali elementi della rosa attuale può fare a meno per cercare di abbassare i costi di gestione in questo frangente davvero molto elevati. Dunque contratti alla mano il nuovo staff tecnico sarà alla prova per i prossimi 12 mesi. Sia Asta che Repetto infatti hanno firmato per un anno cosa che se da una parte può evitare il rischio di avere molti dipendenti a libro paga e inevitabilmente pone Campitelli nella condizione di dover tornare subito sugli eventuali rinnovi nel momento in cui le cose dovessero girare per il verso giusto. Ma d'altronde la strada da battere era praticamente obbligata vista le ristrettezze economiche a cui andrà incontro il Teramo. Ad Asta e Repetto ora il compito di ridisegnare un organico che costi molto meno e renda decisamente di più. E farlo presto perché a luglio si parte per il ritiro e i giorni di vacanza il Teramo li ha persi nel puzzle dei nomi e degli incastri. Da lunedì dunque si parte di corsa sperando di non sbagliare nulla o quasi.